ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come ieri sera al grande fratello abbiamo visto uno scontro inaspettato tra marco maddaloni e alfonso signorini al momento delle nomination infatti maddaloni è rimasto poco tempo ad esprimere la sua preferenza liquidato velocemente dal conduttore sui social ovviamente è scattata la polemica e tutti si chiedono cosa sia successo grande fratello signorini contro marco maddaloni i social esplodono cos'è successo ieri sera al grande fratello se lo stanno domandando tutti specialmente per la strana dinamica avvenuta tra alfonso signorini e marco maddaloni il conduttore infatti lo ha tenuto in zona nomination per pochissimo tempo signorini si è spazientito dopo che il concorrente ha esordito ringraziando cesara buonamici il pubblico è rimasto sotto shock dopo questa frase e maddaloni ha subito fatto la sua nomination con il nome di beatrice luzzi marco maddaloni sui social e bufera dopo il trattamento di signorini l'atleta durante la nomination non ha nemmeno avuto il tempo di spiegare le sue motivazioni che il conduttore ha subito risposto al che maddaloni incredulo ha risposto ma veramente immediatamente i social si sono incendiati e nei commenti i telespettatori si chiedono come mai signorini abbia reagito così male che ci sia qualcosa che ancora non sappiamo oppure è rimasto male perché il concorrente era in ritardo dal momento in cui è stato chiamato insomma le ipotesi sono tantissime ma domani in puntata potrebbe chiarirsi questa strana dinamica ciao ciao